Ciao, benvenuti alla quinta puntata di Parazzo Quiz. La settimana scorsa abbiamo scelto noi il film che era Dune ed è stato indovinato dalla coppia Leonardo e Caterina che quindi arrivano a due punti e si portano in testa la nostra classifica. Esatto, due punti. Tanto per precisare, Dune nei film a Cipara perché è uno dei primi film che abbiamo visto e comunque da quello che ho letto non è neanche stato molto apprezzato da David Lynch perché il montaggio non l'ha curato lui e allora in paura e povere dice che è una merda. Non a che vedere con i capolavori che ha fatto poi, ma che continuiamo ad apprezzare. E quindi Caterina e Leonardo hanno scelto il nuovo film a indovinare. Esatto, grazie per avermi coperto la battuta. E questo è il film. E questo è il film. Questo erano i 30 secondi. Come al solito ho commento su Facebook o commento su YouTube che non mettete mai però si può fare. E ricordatevi che le banane quando hanno le macchie sulla buccia sono più mature però io preferisco quando sono verdi. Far le banane fanno schifo. Perché così cago meglio. A prescindere. Però si mangiano volentieri. Mangiate frutta che adesso fra tipo due mesi finisce l'inverno e bisogna fare il carico di sostanze nutritive. Fa molto bene. E bisogna mangiarne il più possibile. Beh, come sempre guardatevi i film a Cipara in una nostra pagina. Se avete domande scriveteci. E se volete organizzare feste chiamate Alex Jackson. Sì. Che lui organizza... No, aspetti, sei sbagliato. Quello devi chiamare Devil Heal Rap. Ah. Devil Heal Rap per le feste. Ma se io sono... Ma feste tipo di mille persone. Metti che io sono un rapper, no? Ah, quello è un altro discorso. Che voglio andare a TRL. Ok. E voglio fare un concerto. Chiamo Alex Jackson. Aspetta che mi chiamano. Forse Alex Jackson sta chiamando. Forse Alex Jackson. Pronto? Ciao, ciao, ciao. No, no, assolutamente. Beh, allora direi di concludere. Un pochettino, sì. Sto organizzando un nuovo concerto. E alla prossima puntata. Ah, ah.